Bene. Attenti. Signori, siamo in diretta in tutta Italia e in tutta Europa. Chi? Il regista o il cameraman? Ebbene, signore e signori, cominciate a prendere la linea. Che paura avete? Tanto non dovete comprare nulla. Ma cominciate a prendere la linea. Perché? Questo viene dalla collezione. Lo sai anche te, mi hanno comprato lì a un prezzo eccezionale. Dei... no, signori. Ah, 5.000 euro gli hanno chiesto di una non bella così. Signore, signori, questo è Mario Schifano. In una delle cose più belle che siano passate da Telemarket. L'opera in visione si intitola Aish Drené. Mi recuperi un libro, per favore? Aish Drené. È talmente materica, perché anche questa è realizzata con colore ad olio a smalto. Gocciolante di colore. Ah, anni 80, sì. Grazie, Angelo. Vedete, è come se avesse spremuto il tubetto di colore. Per poi... Ero lo... Il tubetto di colore. Per poi fare queste volute. È di una bellezza, di una forza, signore e signori. Misura un metro per Angelo. Grazie, Angelo. L'opera è firmata in basso a destra da lui. La firma è autografa. Gocciolante di colore vera. Attenzione. Vediamo chi la perde, questa. Se vi chiedessi 3.500 euro, qualcuno avrebbe il coraggio di dire Orlando è bellissima, ma è un po' cara? Avete un 50%. Bene, signore e signori, il primo che mi chiamo io gliela mando in visione. Se gli piace la compra, se no la li manda indietro, non spende nulla. Bene. 1.000 euro. Sì, ma non cash? No, devi ancora togliere il 50. Vuol dire? 18 euro al netto. 500 euro, signori. 18 euro. 500 euro. 18 euro. 500 euro. 18 euro. 100 euro, signori. 18 euro. 1.000 euro. Quindi? No, no, state a guardarla. No, dai, dimmi. No, Alessandro, ho già preso due Gonzaga. Ho preso l'opera. Signore e signori, io portarvi un'opera a 20 faccio la stessa fatica. Quest'opera vale un capitale, non può costare 5 euro. Giornando, 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 giornando. Mi sono malo, io non amo, non mi piace schifano, schifano. Solo il nome mi dà fastidio, va bene. Padre, è un sogno. Mamma mia, ma guarda qua. Ener, tener, tener, tenerci, eh? Ah! Ti odio.